SIGARIO Sono il tenente Aldo Rehn. Siamo i bastardi. Hai sentito parlare di noi? Siamo grandi ammiratori del tuo lavoro. Uccidere nazisti. Ma come sicario di nazisti, sei a livello amatoriale. Siamo qui per vedere se vuoi diventare un professionista. Sono un'unità del servizio segreto americano penetrata dietro le linee nemiche. I tedeschi li chiamano i bastardi. I bastardi? Sì, quegli yenchi gli hanno fatto conoscere l'inferno. Sì, più o meno. Se hai sentito parlare di noi, sai che il nostro lavoro non è fare prigionieri, ma uccidere i nazisti. E gli affari vanno al massimo. È vero. Tra tre giorni, Josef Goebbels darà una premiere di gala per il suo nuovo film a Parigi. A questo evento teutonico presenzierà la maggior parte dell'alto comando tedesco. Avremo tutte le uova marcia in un solo cesto, in pratica. L'obiettivo? Far saltare il cesto. Noi, 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 noi! Oh, sì, 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 sì! C'è una cosa che non sai. E cioè? Hitler sarà presente alla premiera. Come voleva fargli entrare alla premiera? incontrerà la nostra gente in incognito. Da lì ci penserà lei. Il tenente alto Reyns in un spazio. Das ist das Geräusch meiner Walter, die direkt auf ihre Roden gerichtet ist. Dann sind wir zu zweit. Alla, jetzt sind wir zu trete. Divertente! Tu sei il cacciatore di ebrei. Questo è un bingo! È così che dite voi? Questo è un bingo? Diciamo solo bingo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!